Saturn, la planetaria di ESMAC. Andiamo a vedere come funziona il pannello comandi. Vediamo che abbiamo tutte le varie funzioni. Ha innesto rapido sulle tre velocità e posso modificare il tempo di impastamento. Stop, attivazione, movimento e avvio, movimento. Il fungo di sicurezza, molto semplice. Esistono diverse dimensioni del Saturn. Questo è il modello più piccolo ed è molto interessante perché è il modello da 40 ma con il riduttore da 20. Quindi io sulla stessa macchina posso inserire una vasca più grande da 40 con gli utensili dedicati, oppure come in questo caso la vasca da 20 con gli utensili dedicati. Gli utensili sono in innesto rapido, quindi io semplicemente li vado a inserire nella parte alta e poi chiudere la macchina per farla partire. Abbasso la leva di sollevamento della vasca e vado a premere la velocità che desidero della macchina. La planetaria è estremamente facile da pulire perché posso smontarla in tutti i suoi componenti compreso il carter. Basta semplicemente ruotarla fino a fine corsa, dare lo sgancio finale e posso portare il mio carter in lavastoniglie.